L'Italia è divisa tra la grande preoccupazione, ma chi la pensa come lei, che siamo in guerra e che quindi questa è una forma di strategia dell'invasione. Cosa dirà le persone stasera? Siamo in guerra, che è il titolo del mio libro, sono le parole testuali dette la sera del 13 novembre, giorno in cui Parigi è stata insanguinata da efferate stragi, dal presidente francese François Hollande, disse siamo in guerra. Siamo in guerra è anche quello che ha detto successivamente il capo del Pentagono. Papa Francesco ha detto questa è la terza guerra mondiale, quindi non è una tesi di Magdi Cristiano Allam, è una corretta rappresentazione di una realtà dove questo terrorismo islamico è a tal punto globalizzato da essere diventato autoctono e endogeno. Cioè chi perpetra questi massacri sono cittadini europei musulmani che massacrano indiscriminatamente altri cittadini europei da loro condannati indistintamente come miscredenti. Non ci difendiamo. Dobbiamo riscattare, riscoprire la certezza di chi siamo sul piano delle radici, della fede, dei valori, dell'identità, delle regole e delle leggi. Dobbiamo essere forti dentro per poter essere pienamente noi stessi dentro casa nostra. Quindi non si tratta in alcun modo di fare la guerra a un miliardo e mezzo di musulmani nel mondo, sarebbe un'idiozia e una follia, né di fare la guerra ai musulmani che sono presenti tra di noi perché sarebbe razzismo, ma dobbiamo chiarire a tutti che noi non siamo una terra di nessuno, ne vogliamo trasformarci in una terra di conquista. Quindi coloro che scelgono liberamente di condividere questo spazio che è sia fisico sia di civiltà, lo devono fare rispettando le leggi laiche dello Stato, ottemperando a quelle regole su cui si fonda la civile convivenza, condividendo quei valori che sostanziano la nostra civiltà. Io ho scritto un libro nel 2005 che si intitola Vincere la paura, dove spiego che la paura è lo strumento su cui investono i terroristi islamici per sottometterci, per farci sopraffare dalla paura e di conseguenza non reagire e di conseguenza poi appunto sottometterci a loro. No, noi dobbiamo essere consapevoli che qui dentro a casa nostra noi dobbiamo avere il diritto e il dovere di essere pienamente noi stessi e dobbiamo farlo con una chiarezza che indichi a tutti che noi non vogliamo discriminare nessuno, ma non vogliamo essere costretti ad autodiscriminarci accordando ad altri ciò che è negato ai cittadini italiani. Grazie a tutti.